Nel comparto della piccola pesca, ovvero le barche al di sotto delle 10 tonnellate, si sta verificando uno tsunami fiscale. A seguito di controlli effettuati da parte dell'Inps alle cooperative operatori ittici che aderiscono alla normativa della legge 250, quella riguardante appunto le barche della piccola pesca, vecchia ormai di 60 anni, in termini di contribuzione a macchia di leopardo in tutta la dorsale adriatica, stanno arrivando richieste di pagamenti retroattivi di 5 anni che in alcuni casi sono veri e propri tsunami. Nel comparto di Chioggia, da dove sono partiti, si sono visti arrivare cartelle anche di oltre 180 mila euro. Per ora sono solo tre le aziende locali che se le sono viste recapitare anche di 30 mila euro, in alcuni casi più del valore stesso dell'imbarcazione, una cosa che sta mettendo in grande allarme tutto il settore, perché dietro una barca ci sono famiglie intere che vivono di questo. Anzi, viste le difficoltà croniche del settore, sarebbe il caso di dire sopravvivono, ma ora questo, per molti di loro, potrebbe essere il colpo di grazia. Le associazioni si stanno adoperando per fermare questo litter burocratico, per evitare che ci sia un default da parte delle imprese di pesca, che sarebbe drammatico. Coinvolge momentaneamente la costa adriatica, ma potrebbe riguardare l'Italia intera. Il comparto pesca è in forte sofferenza, da anni, quindi tra la burocrazia europea, queste ultime sanzioni è in forte sofferenza. Il tutto nasce, ci dicono gli operatori, dal fatto che nella legge che regolamenta il comparto c'è un buco normativo che è ben noto, anche le associazioni di categoria che ora stanno cercando un modo per affrontare la situazione, senza dover perdere ancora migliaia e migliaia di posti di lavoro. Gli imprenditori si muovono come possono. È significativo però che l'Inps, da una parte, richieda a coloro che sono con barche sotto le 10 tonnellate di trasferirsi in legge 250 e da altre parti, contesta il fatto ad alcuni che pur con barche inferiori alle 10 tonnellate debbano trasferirsi in legge 413. Abbiamo fatto anche una richiesta di poter rivedere la norma, soprattutto con alcuni emendamenti che ne portano, che ne danno maggiore chiarezza. Ma a tutto oggi sono passati quattro mesi, non abbiamo trovato ascolto. Speriamo che l'emergenza porti a riconsiderare la questione e la metta tra le priorità, almeno nel comparto della pesca.